Ben trovati a tutti alla nuova puntata del ciclo Economia prima e dopo, questa settimana abbiamo la seconda parte di una coppia di puntate dedicate al problema del disagio psicologico da post-virus, ossia quali possono essere le ricadute, gli impatti a livello psicologico sul lavoratore, sull'imprenditore a causa del prolungato fermo e delle preoccupazioni che attanagliano la vita di ognuno di noi. Ne abbiamo lungamente discusso la puntata scorsa con la dottoressa Silvia Cavoli, psicologa e psicoterapeuta che ci ha fatto una profonda e interessantissima analisi e discutiamo oggi invece con un gradito ospite Gabriele Bani, business coach e formatore aziendale che conosce e segue diverse aziende dal proprio interno sul piano psicologico e motivazionale. Con me, come sempre, l'amico e collega Giuseppe Fischetti che collaborerà e mi aiuterà ad indagare questo argomento. Riprendiamo quello che è stato l'argomento che ci ha introdotti in un ambito abbastanza delicato che è quello dell'effetto psicologico che il post coronavirus andrà a generare all'interno di ogni singolo soggetto, sia esso normale o cittadino, ma soprattutto sia esso lavoratore o imprenditore. Ricordava Alberto infatti che nella prima parte noi ci siamo occupati delle cause e degli effetti che sono stati generati dal covid-19 e grazie all'aiuto della dottoressa Cavoli abbiamo scoperto quali sono le caratteristiche, ma soprattutto quali potrebbero essere gli effetti che andranno a incidere, a generare su ognuno di noi tutti gli avvenimenti che sono legati a questo evento così straordinario. Ora approfitto del nostro ospite e vado subito a fargli la prima domanda dicendo, dottor Barri, ma il business coach di per sé è una figura che lavora molto su quello che è il clima aziendale, basando probabilmente la sua impostazione anche su una serie di probabilità che possono accadere in azienda. Ma la domanda che mi sento di rivolgere, oggi che cosa cambierà per la sua figura all'interno delle aziende? La sua impostazione sarà più appesantita dall'elemento covid-19 oppure bisognerà soltanto innestare dei processi a supporto di quanto già si faceva e mi riferisco a coloro che intravedevano nel supporto del business coach un elemento importante per superare e magari raggiungere determinati obiettivi aziendali. Buongiorno a tutti, vi ringrazio di questa bellissima opportunità e ringrazio anche il dottor Pischetti per questa domanda. Sicuramente la mia figura subirà un aumento del carico di lavoro perché questa situazione così particolare ha scaldato, diciamo, il bisogno interiore degli imprenditori di dover lavorare e dover prendere in considerazione tanti aspetti emotivi e mentali che impattano nella vita di tutti. Quindi si sono rivolti a me in questo momento tanti imprenditori perché hanno bisogno di ripararsi, perché sentono il pericolo di non poter aprire. Hanno paura per i loro dipendenti perché sentono che potrebbero non avere la motivazione giusta per tornare al lavoro e quindi sicuramente la mia figura è la figura quella dei colleghi che in questo momento stiamo lavorando per poter aiutare le aziende a poter ripartire avranno un impatto maggiore. Quindi sicuramente c'è bisogno di lavorare per creare delle aziende con più qualità e quindi si deve lavorare sull'aspetto mentale, sull'aspetto di appartenenza e anche sul togliere tutti quei rischi che in questo momento sia i lavoratori che l'imprenditore sentono forti, che in questo momento li stanno vincolando. Bene, io oggi voglio essere un po' l'avvocato del diavolo, come si suol dire, e provare a cercare degli spunti di riflessione. Tutti noi abbiamo presente, per quanto abbastanza datata, la famosa scala dei bisogni di Maslow dove al primo livello abbiamo il bisogno fisico e quindi alimentazione, protezione, caldo, freddo e via dicendo al secondo livello è il bisogno di sicurezza e quindi sicurezza fisica, un tetto, protezione dagli animali, dai pericoli eccetera al terzo livello abbiamo il bisogno di appartenenza, quindi la socialità, l'amicizia e quant'altro e poi per ultimo viene l'autostima e l'autocontrollo quindi questo significa che quando andiamo a fare un intervento di accompagnamento all'interno dell'azienda noi ci troviamo alla fine dei conti a dover discutere con bisogni assolutamente primari con bisogni che se vogliamo sono molto più istintivi che razionali quindi come si fa ad intervenire su questi diversi aspetti? Lei ha detto ragionare sullo spirito di appartenenza però prima di tutto viene quello fisico e quello di sicurezza Assolutamente, bisogna capire quali sono le dinamiche che servono alla persona quindi il primo impatto è capire quali sono i bisogni che in questo momento portano la persona a essere sicura e questo aiuta poi a sviluppare il senso di sicurezza il discorso che in questo momento sto facendo con gli imprenditori è il discorso dell'ecologia cioè che cos'è l'ecologia? È un'azione che facciamo noi ma che genera un benessere non solo a noi stessi ma a tutto l'ambiente quindi per permettere alle aziende di ripartire e quindi non percepire più così urgenti queste criticità c'è da capire quali sono i valori e i bisogni dei lavoratori e dell'imprenditore per permettere poi dopo di tracciare una nuova via se no il rischio è alimentare paura su paura perché i miei pensieri non so come guidarli quindi una delle cose importantissime che in questo momento su cui si sta lavorando è la guida dei pensieri utili quanto in questo momento si sta sprecando di tempo in parole e pensieri tossici che inquinano sempre di più e la mente inquinano sempre di più e quindi creano ancora più stress e questo vincolo in maniera negativa l'imprenditore e il lavoratore se non vogliamo poi mettere quello che aveva detto la dottoressa Casoli delle persone che o sono state malate e quindi hanno anche la paura di quello che hanno vissuto e di chi ha subito anche un lutto e quindi quanto possono essere emotivamente vulnerabili quelle persone e come poter dare una mano a quelle persone lì? Ecco, solitamente quando si fanno interventi che devono tenere compatto e quindi devono dare sostanza a quel famoso clima aziendale o quindi quella parte dove ci si ritrova un po' tutti e si fa in modo che si possano poi raggiungere gli obiettivi si possa lavorare in sintonia si possa lavorare con la massima serenità e tranquillità quando si fanno operazioni di questo tipo c'è comunque un cosiddetto benchmark c'è un riferimento colui che solitamente si fa carico della parte del restante del gruppo e diventa un po' il riferimento cioè l'uomo da seguire colui che potrebbe rassinerare di più l'ambiente che aiuti a trovare la motivazione ma in questo momento io credo che ogni soggetto che fa parte della squadra ha comunque un piccolo angolo recondito che gli riporta un po' e lo tocca fortemente nel proprio pensiero su quello che ha generato sto benedetto coronavirus e quindi penso a il pensiero di magari rientrare o non rientrare più in un'azienda perché probabilmente il periodo è stato così lungo che l'azienda stessa ha deciso di non riprendere più l'attività lavorativa gli è capitato un lutto in famiglia o ha rasentato quello che poteva poi generarsi in un lutto in famiglia quindi dico la mente è occupata da altro il ricordo è troppo vivo e comunque riafiora come si fa in queste circostanze a trovare un benchmark da seguire all'interno dell'azienda non lo so può essere rappresentato dall'imprenditore o può essere rappresentato da un comune sentire che comunque riesca a tenere tutti i legati questa è una bellissima domanda per benchmark diciamo che sicuramente l'imprenditore ha bisogno di essere un leader quindi di sviluppare quel bisogno e quell'equilibrio interiore che gli permette di avere da un lato l'empatia perché deve capire che innanzitutto lui è un essere umano e anche lui potrebbe aver subito in prima persona qualche esperienza dolorosa e quindi deve essere in grado di creare quel contatto empatico con il proprio dipendente dall'altra parte deve avere quella lungimiranza con strategia e avendo costruito degli obiettivi in questo momento per dare una direzione per dare una spinta per dare forza a tutta la sua azienda quello che in questo momento si sta verificando è che gli imprenditori che si stanno affidando a dei professionisti per capire cosa c'è due passi in avanti allora si stanno preparando quindi stanno sfruttando questo momento per essere pronti c'è chi invece in questo momento si sta solo preoccupando dicendo chissà quello che farà chissà come lo farò e quindi va a inquinare ancora di più la propria mente e potrebbe capitare il rischio per questa tipologia di imprenditore di il giorno in cui si può ripartire quel famoso 4 maggio per qualcuno o date più in là andare e uscire e stare a testa bassa 16, 18, 20 ore ma questo creerà un danno ancora peggiore sia all'imprenditore che alla propria azienda mentre invece in questo momento andare a prepararsi andare a costruire sia degli obiettivi pratici che permettono di sentirsi più sicuri va anche a togliere tutta quell'ansia che in questo momento sta affossando la mente di tante persone una delle cose che ho fatto con un imprenditore che sto seguendo in questo momento è dopo aver attraverso dei professionisti sviluppato le strategie future fatto in modo che lui potesse comunicare a tutti i suoi dipendenti cosa l'azienda farà nei prossimi sei mesi e questo ha generato motivazione in ogni persona ha ricevuto dei messaggi delle persone che si sono sentite di valore per l'azienda perché un rischio che in questo momento può essere da parte dell'imprenditore è non dico niente a nessuno soprattutto ai miei dipendenti ma questo crea ancora più paura perché? perché c'è un'incertezza costante se non c'è qualcuno che si prende il diritto di parlare o a volte anche il dovere di parlare per dire si farà così così questo genera ancora più paura e genera ancora più nervosismo se invece vedono che c'è questo leader che guida allora gli altri in questo momento si sentono anche più sicuri ad affidarsi a questa persona qui perché sa che ha messo loro al centro vi posso assicurare in questo periodo così particolare ho avuto l'occasione di fare coaching con degli dipendenti che vogliono andare via in certe aziende perché si stanno comportando male le aziende e quindi questo sarà un danno di immagine bruttissimo sul concetto di progettazione di pianificazione di programmazione e ovviamente di assegnazione di obiettivi all'interno dell'impresa ne abbiamo parlato lungamente nel corso delle altre puntate come una buona prassi che dovrebbe essere eseguita in azienda abbiamo anche sottolineato che il 94% delle piccole e medie imprese italiane non dispone di uno strumento di programmazione e quindi su questo sfonda una porta aperta e non possiamo fare altro che essere assolutamente d'accordo su questo aspetto io temo che gli imprenditori come è stato detto siano concentrati nella quantità soprattutto di produzione perché la prima cosa che si ritroveranno è un backlog cioè un carico di ordini ancora da soddisfare e quindi se gli va bene avranno le materie prime in magazzino per poterle lavorare e poi spedirle se gli va male avranno solo gli ordini e i magazzini vuoti e quindi poi dovranno correre per andare a procurarsi queste materie prime da altre aziende che magari a loro volta sono state chiuse o sono ancora chiuse e quindi a loro volta avranno il loro accumulo di ordini vecchi da esaudire e quindi immagino l'ansia di questo imprenditore o di questa azienda insomma dei suoi quadri e quindi mi viene da pensare al di là del lavoratore di cui abbiamo accennato magari riprendiamo anche più tardi quale potrebbe essere il suo impatto a livello di rientro in azienda ma non abbiamo il rischio di burnout come si suol dire cioè di logorio psicofisico ed emotivo da parte dell'imprenditore che notoriamente è un po' più solo rispetto al dipendente perché non ha con chi confrontarsi non porta i problemi a casa dalle associazioni riceve poco e niente l'amico magari è un concorrente e quindi tiene tutto dentro e tira 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 potrebbe insomma effettivamente alla fine croppare e non raggiungere il proprio obiettivo assolutamente questo è il rischio più evidente che stiamo stiamo vedendo perché perché se l'imprenditore si sente completamente solo e non sa a chi affidarsi e non sa con chi gestire questo carico emotivo avrà questo cioè questa cosa che dici tu Alberto è veramente il rischio più grande e quindi oltre il danno direi anche la beffa il fatto di quella statistica che dici tu del 94% delle aziende delle PMI che non hanno strumenti di programmazione in questo momento deve dare una sveglia a tutti quei 94% di imprenditori che dovrebbero capire che in questo istante è questa l'unica via per poter avere un'azienda che ripartirà perché se no il rischio è un enorme fallimento e il burnout ha una grande ancora un grande lato negativo che va a toccare l'identità della persona io ho avuto nella mia carriera l'incontro con delle persone che avevano subito un burnout fisico perché erano atleti e vi posso assicurare che il burnout fa veramente veramente male all'anima delle persone cioè le persone prima di un burnout si sentono sicure forti pronte privilegiate cariche dopo hanno paura pure della loro ombra ma questo poi perdura per almeno 6-7 mesi quindi bisogna veramente giocare d'anticipo avere una strategia preventiva perché perché se no prevedo tanti tanti danni ulteriori che il covid non poteva fare lo fanno gli imprenditori e lo fanno le aziende che in questo momento non si stanno preparando ecco fare prevenzione che dovrebbe essere alla base di ogni imprenditore noi lo caratterizziamo ancora meglio questo fare prevenzione e noi spesso spingiamo su questo aspetto dicendo che gli imprenditori devono fare prevenzione attraverso la valutazione del rischio e la valutazione del rischio passa non soltanto attraverso l'approvvigionamento di materie prime o il manufatto da fare o il servizio da erogare ma la valutazione del rischio è soprattutto fatta nei confronti di coloro che sono gli artefici della produzione del manifatturiero dell'erogazione del servizio e cioè i propri collaboratori quindi gli imprenditori avveduti si preoccupano e utilizzano anche gli elementi che sono messi a disposizione noi lo abbiamo citato in una delle nostre trasmissioni dicendo che il welfare aziendale per esempio è uno strumento che non deve essere confuso con un vantaggio fiscale ma deve essere quello strumento atto a creare quel clima aziendale a far sì che il collaboratore si senta valorizzato cioè trovi le motivazioni per non sentirsi un oggetto ma una risorsa importante per l'azienda stessa però noi sappiamo benissimo che non tutti hanno questa visione sono pochi i soggetti che utilizzano questi elementi per migliorare o raggiungere i propri obiettivi e quindi dare quella continuità aziendale e quel valore aggiunto che ogni impresa invece dovrebbe avere quando non si insiste molto soltanto sul prodotto finito ma si dà il valore al cosiddetto intangibile che poi è quello più importante all'interno del sistema ora ipotizzando che io sia un imprenditore che tutto questo nel tempo non l'ha mai considerato oggi ho impattato con il covid-19 e mi appresto a ripartire se dovessi chiamare il dottor Gabriele Bani e dire che cosa devo fare oggi perché io sono un'azienda che ha capito di aver sbagliato che cosa posso fare qual è il piede giusto per ripartire che consiglio mi dà Bani allora innanzitutto molto molto bene che c'è l'assunzione del fatto che un'azienda non ha fatto il passo giusto quindi hanno capito che la strada che avevano intrapreso è finita cioè tanti imprenditori in questo momento forse sarò duro ma è bene che sia così perché il momento è estremamente trasformazionale se continuiamo a fare le stesse cose che facevamo prima e già stavamo soffrendo prima in questo momento vi posso assicurare che non c'è una strada siamo destinati già al fallimento quindi se viene da me come stanno venendo in questo momento le persone gli imprenditori la prima cosa da fare è lavorare dal punto di vista del focus mentale quindi come dirigere i pensieri e dove dirigere i pensieri per poter avere una lucidità una chiarezza che mi permette di reso i professionisti giusti sviluppare quel piano che abbiamo detto prima dei obiettivi futuri che ci permette di prepararci al ritorno alle attività e poi come comunicare quindi un secondo lavoro sulla comunicazione interna per poter essere il leader emotivo ed ecologico per la mia azienda abbiamo bisogno di imprenditori che facciano questo passo che diventino realmente imprenditori perché perché se no il rischio è che tante aziende falliranno perché perché sono stati incapaci e mi dispiace dire questa cosa qui ma è la verità chi sa già stava soffrendo prima è perché non aveva messo in atto tutto quello che serve il fatto che uno pensi io so come si gestisce un'azienda non è vero perché i numeri parlano e quindi attraverso quei numeri noi dobbiamo dare un valore crescente all'azienda vi faccio due esempi se posso uno è un'azienda che sto seguendo di Pescara che in questo momento loro stanno guadagnando tantissimo perché perché lavorando su obiettivi a alto spettro sono riusciti ad anticipare il mercato nel mercato e guadagnare pette di mercato in questo momento lavorando con fornitori lavorando con nuovi clienti e facendosi percepire visibili nel mercato quanto è importante anche la visibilità online in questo momento cosa che ancora tanti imprenditori prima del covid eh ma non ho bisogno di questa cosa qui dall'altra parte prendo un'azienda che mi ha scritto che ormai chiuderà perché perché ormai non ha l'imprenditore ha perso la motivazione ha perso l'entusiasmo ha perso la gioia di poter fare quella cosa là e non vuole far più niente quindi pensiamo che danno grosso questa cosa qui crea non solo alla vita dell'imprenditore e della sua famiglia ma anche alla vita di tutte le persone che sono in relazione con lui e allora imprenditore io vi lancio questa sfida chi volete essere quelli che prosperano quelli che si stanno evolvendo o quelli che si adattano a sopravvivere e se non cambiano qualcosa comunque non faranno vita lunga bene allora concludendo voglio esprimere in altri termini anche in coerenza con quanto abbiamo detto per esempio nella puntata dedicata al report integrato cioè noi possiamo dire che se prevediamo un elevato tasso di assenteismo perché il lavoratore si mette in malattia perché ha paura perché non vuole obbedire perché non è disposto allo straordinario perché ha problemi familiari ancora da gestire possiamo affermare che il capitale umano di quell'impresa sta scendendo e quindi mentre oggi l'attenzione di tutti è sul capitale finanziario e quindi sostegno alle imprese recupero della liquidità bisogno di incassare bisogno di fatturare l'azienda media oggi presa da questo rischia di dimenticare l'altro capitale che è fondamentale se non forse più importante che è proprio quello del capitale umano capitale umano che significa competenza delle persone all'interno dell'azienda ma soprattutto attitudine motivazione spirito di squadra condivisione degli obiettivi condivisione delle responsabilità e atteggiamento positivo critico e proattivo affinché tutta la macchina impresa che ricordiamo non finisce con le mura della fabbrica ma si estende anche sul territorio sul tessuto sociale sulla quale insiste necessita della collaborazione di tutti gli operatori di tutti gli attori con questo con questo io concludo ringrazio il nostro ospite Gabriele Bani a cui lascio la parola per un veloce passaggio e l'ultimo saluto all'amico Giuseppe Fischetti l'ultimo passaggio è proprio questo il capitale umano è la risorsa che deve essere sviluppata in questo momento se un'azienda vuole diventare un'azienda di successo e vuole vincere la sfida del covid e del post covid ha bisogno totalmente di lavorare sul capitale umano perché è quello che gli darà la spinta decisiva per poter diventare un'azienda di successo grazie ancora di questa opportunità e vi auguro un buon proseguio si conclude con la puntata di oggi l'argomento della ripresa post covid e i fenomeni di natura psicologica caratterizzanti l'evento particolare e ai fini di un proseguio e una ripresa azientale io credo che lo abbiamo trattato in modo abbastanza semplice ma molto chiaro lineare lo abbiamo fatto con l'ospite di quest'oggi Gabriele Bani che nel suo spiegarci in maniera chiara e precisa quali possono essere i rischi che oggi si corrono all'interno delle aziende in maniera pratica è emerso ancora una volta che va bene sì l'aspetto finanziario è determinante per la continuità aziendale ma lo è ancora di più quando questo viene affiancato dai valori interni che si hanno che rappresentano il know-how e cioè il capitale umano che l'azienda detiene ancora grazie e arrivederci alla prossima puntata a Grazie a tutti. Grazie a tutti.